Terra a Mara Anticipazioni. La puntata che sto per portarti cambierà nuovamente il futuro dei protagonisti della serie. In questo avvincente video esploreremo il terribile e distruggente racconto di una famiglia travolta da un incidente tanto tragico quanto inaspettato. Sanje e Gulten, le coraggiose protagoniste, si troveranno ad affrontare un'esperienza che sconvolgerà la trama e il tessuto emotivo della serie. Coinvolte tragicamente in un incidente stradale, dovranno dimostrare una resilienza straordinaria, mentre l'unità della comunità sarà messa a dura prova. In questo affascinante racconto, le protagoniste, lontane dal limitarsi a ricoprire il ruolo di figlie, mogli o cognate, si rivelano vere e proprie chiavi di volta, influenzando le intricate decisioni che si delineano all'interno della maestosa tenuta. Nonostante la loro incontestabile importanza e l'affetto immenso che generano, il fato sembra riservare loro un percorso imprevisto e intriso di oscurità. Un evento tragico e imminente è sull'orlo di frantumare la quiete della sontuosa villa. Proprio mentre il sole comincia il suo lento tramonto, Sanje e Gulten si trovano improvvisamente al centro di un momento critico, dopo un acceso confronto con l'astuto Hasme. In questa discussione, Sanje si è eretta come paladina della proprietà degli Yaman, ribadendo con fermezza che nessuno può sottrarre il loro prezioso prodotto. Durante il ritorno alla villa con l'auto, la tranquillità del momento è interrotta da un suono deciso che fia a sobbalzare Sanje, un guasto improvviso all'auto. Con sguardo determinato, le due donne si gettano nell'arduo compito di risolvere l'imprevisto, scoprendo che la causa è una ruota forata. Gulten estrae con determinazione gli attrezzi dal bagagliaio, mentre Sanje, sempre vigile, controlla la distanza tra loro e la carreggiata. Le loro mani esperte si dedicano alla rimozione della ruota danneggiata, discutendo brevemente su come procedere. La ruota sfugge dalle loro mani e inizia una corsa lungo la strada, seguita dalle due donne che cercano di raggiungerla nel minor tempo possibile. Quando finalmente la recuperano e la riportano verso il loro veicolo, un brivido gelido corre lungo le loro spalle. Un ronzio crescente riempie l'aria e nel silenzio si avverte un rombo distante. All'orizzonte appare una macchina. Il tempo sembra rallentare ogni dettaglio dell'imminente incidente, che si svolge come in uno spettacolare slow motion. Le due donne, ignare del pericolo, sono avvolte nella loro corsa per risolvere il problema al centro della carreggiata. In un istante, il destino si compie dal nulla. L'auto di Hasmet, in un turbine di velocità, emerge da dietro una curva. Il suono stridente degli pneumatici e l'urlo del motore riempiono l'aria. Distraito dalla discussione accesa con il figlio accanto a lui, Hasmet non ha il tempo di frenare o evitare le due donne. L'impatto è devastante. Sunny e Goulton vengono sollevate da terra come foglie in una tempesta, prima di schiantarsi pesantemente sull'asfalto. Il silenzio che segue è assordante. L'auto di Hasmet si ferma a una distanza sicura, mentre una nube di polvere si solleva lentamente nell'aria. Hasmet, sbigottito, si rende conto dell'orrore che ha causato, mentre il figlio pallido e tremante lancia uno sguardo di incredulità all'indietro. Come due ombre in fuga, Hasmet e suo figlio abbandonano la scena del tragico incidente, con la paura negli occhi, consapevoli che solo scappando possono sperare di sfuggire alla giustizia. Le due donne, Sunny e Goulton, giacciono immobili sull'asfalto, a volte da un silenzio che sembra presagire il peggio, ma non tutto è come sembra. Quando i soccorsi raggiungono il luogo dell'incidente, la realtà si rivela ancora più crudele. Sunny ha perso la vita all'istante, mentre Goulton, in uno stato di gravità sospeso tra vita e morte, viene immediatamente trasportata in ospedale. La gravissima notizia si diffonde rapidamente, rendendo ancora più pesante l'atmosfera nella villa Yaman. Quando una camionetta della polizia giunge alla villa con il comandante in persona per parlare direttamente con Ghaffur e Chetín della disgrazia avvenuta, la notizia della morte di Sunny è una mazzata per Ghaffur. Mentre il comandante si avvicina con un'espressione gravida di pesantezza, Ghaffur tenta di evadere la realtà, sperando che le parole del comandante siano qualsiasi cosa tranne che la verità. Con voce ferma e implacabile, il comandante pronuncia le parole fatali. Ghaffur, Sunny è morta. Un senso di incredulità e disperazione pervade Ghaffur. Sunny ha avuto un terribile incidente ed è morta, ribadisce il comandante. Ogni parola pesa come un macigno, facendo crollare il mondo di Ghaffur. Le grida di dolore che echeggiano dalla villa sono il triste segno di una famiglia distrutta. Ghaffur rifiuta di accettare ciò che ha udito. La sua mente cerca freneticamente una spiegazione che possa negare la realtà. In cucina, Sunny balbetta, cercando di ricreare un mondo in cui la moglie è ancora viva e al suo fianco, ma le parole irrevocabili del comandante disintegrandone ogni speranza. Lo sguardo di Ghaffur si rivolge verso Chetín, annunciando che Gulten è gravemente ferita in ospedale. La notizia colpisce Chetín come un pugno allo stomaco, ma è la reazione di Ghaffur a sconvolgere tutti i presenti. Il suo dolore si manifesta in modi incontrollabili. Si aggrappa al gendarme, urla disperatamente e si strappa i capelli prima di crollare a terra completamente sopraffatto dal peso della sua perdita. Uzum, la piccola bambina, accorre spaventata cercando di comprendere la tempesta emotiva che ha travolto suo padre. Gli altri abitanti della villa, inclusi Zuleia e Lutfi, sono atterriti dalle sue grida e corrono per cercare di calmare Ghaffur o almeno comprendere l'enormità della tragedia. Con un animo carico di pesantezza, Ghaffur percorre i freddi corridoi dell'obitorio di Adana. Lì, davanti al corpo senza vita di Sanye, il suo mondo sembra sbriciolarsi definitivamente. L'ultimo saluto che Ghaffur dà a Sanye sul freddo tavolo dell'obitorio è struggente. Parla con lei cercando disperatamente una risposta. Farnetica e la esorta a svegliarsi, a tornare a sgridarlo come faceva sempre. In tutti i modi cerca di farla aprire gli occhi, ma Sanye giace immobile, distesa davanti a lui. La vita trascina avanti il suo corso, ma per Ghaffur e la piccola Uzum si è spalancato un vuoto profondo, un abisso di incertezza che avvolge il loro futuro. La perdita di Sanye è un dolore così insondabile che nessuna parola riesce a catturare la sua vastità. Il percorso verso la guarigione appare lungo e pieno di curve anguste. La tragedia ha relegato Ghaffur in una solitudine intensa, il peso di un mondo intero sulle spalle. Con la mancanza di Sanye, Ghaffur si ritrova a dover affrontare la crescita di Uzum da solo, una bambina che ha già sperimentato l'amarezza della perdita, prima con la sua madre biologica e poi con Sanye. La mente di Ghaffur vola altresì verso Gulten, la sua amata sorella, che considerava come una figlia, e al piccolo che Gulten portava in grembo, rendendolo zio per la prima volta. La luminosità che una volta risplendeva nella sua vita è stata repentinamente eclissata. Senza Sanye, il pilastro che lo sorreggeva è alla deriva in un mare di incertezze, ma Uzum diventa l'ancora di salvezza in mezzo all'oscurità. Con dedizione e amore, Ghaffur si impegna appieno nell'assistere la piccola, apprendendo ogni giorno come prendersi cura di lei, dalle piccole attenzioni come preparare il cibo a momenti più significativi, come aiutarla con i compiti. Uzum diventa la sua ragione di vita, il faro che lo guida attraverso le tenebre. Fortunatamente, Ghaffur non è solo. Zuleya, con il suo cuore grande e generoso, si fa avanti per offrire aiuto. La sua presenza si trasforma in una luce nella vita di Ghaffur e Uzum. Con parole dolci e confortanti, Zuleya assicura loro che non saranno mai soli, che sarà sempre lì per proteggerli e prendersi cura di loro. Ghaffur, profondamente grato per l'amore e il sostegno che riceve, sa che deve andare avanti. Mentre Uzum riempie i suoi giorni di sorrisi e risate, un nuovo capitolo si schiude per il loro futuro. Nonostante il peso del passato, Ghaffur guarda avanti, sostenuto dall'affetto di Zuleya e consapevole che, in questo difficile cammino, sono tutti una famiglia. Le parole di Zuleya fungono da balsamo per l'anima ferita di Ghaffur e, con il sostegno di tutti, si prepara ad affrontare le sfide che il futuro Ghaffur riserva. Se vorresti il continuo della storia, scrivi «sì» nei commenti e riceverai il nuovissimo video in anteprima. Grazie di cuore e ciao! Grazie a tutti!